Salve, buon pomeriggio a tutti, questo è l'appuntamento di inaugurazione di Mondo Podcast di quest'anno e come ogni evento iniziale che si rispetti diamo una leggenda di quello che sta succedendo nel Mondo Podcast racconteremo come non si tratti più ormai di un fenomeno, una moda del momento, i podcast sono qualcosa che si è abbastanza radicata nel consumo degli italiani, in realtà non c'è niente di tecnologicamente nuovo perché i podcast nascono agli inizi di questo millennio, poi non sono cresciuti immediatamente e poi si sono affermati per tanti motivi. Il primo è il fatto che ormai tutti noi siamo diventati dei cyborg con uno smartphone sempre incollato al nostro corpo, dall'altra parte c'è l'elemento di connettività che non costa più, connettersi a internet con il telefonino non costa più come all'inizio del millennio, ormai il costo è assolutamente marginale. Poi c'è l'affermazione delle piattaforme, oggi parleremo anche, ci sarà il rappresentante di Audible, società di Amazon che appunto è una piattaforma per l'ascolto di audio, sia audiolibri che podcast e poi c'è stato questo elemento degli ultimi tre anni, cioè quella della pandemia che in qualche modo anche in maniera inaspettata ha fatto crescere il consumo di podcast che si pensava fosse qualcosa di ascolto in movimento, in realtà poi scopriremo anche dai dati di Nielsen che invece molto dell'ascolto è fatto a casa, questo perché c'è sempre più fame di contenuti digitali. Allora, non rubo altro tempo al tutto, iniziamo con Giorgio Pedrazzini che è Consumer and Shopping Insights Senior Consultant di Nielsen IQ che ci farà una panoramica su quello che è il consumo degli italiani, il comportamento degli italiani rispetto ai podcast e poi a chiusura, una volta chiusa la presentazione di Giorgio, proseguiremo in una chiacchierata con Andrea Montanari che è direttore di Rai Radio 3, Francesco Buono che è direttore della programmazione dei contenuti per l'Italia e Spagna di Oudible e Veronica Scazzosi, project manager di Frame Festival della Comunicazione. Ma cominciamo con Giorgio, a te. Benissimo, grazie Federico, buongiorno a tutti. Allora, fatemi dire che sono molto contento di presentare la quinta edizione perché abbiamo iniziato nel 2018 a monitorare i podcast e i dati sono veramente molto interessanti. Direi, partiamo subito con il dato, non lo voglio chiamare più interessante perché a mio avviso porto un po' l'acqua al mio mulino ma sono tutte informazioni che vedremo molto carine, molto interessanti, ma il dato più forte è proprio quello della quantificazione del mercato. È per creare suspense? Ok, ottimo. Allora, adesso che la tecnologia ci aiuta possiamo vedere che gli ascoltatori di podcast in Italia nell'ultimo anno sono 15 milioni e quasi e mezzo, 15 milioni e quattro se vogliamo essere precisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo cresciuti di 900.000 teste nel corso degli ultimi 12 mesi. Nel 2021 eravamo 14 milioni e mezzo, nel 2020 13,9, quindi un aumento di un milione e mezzo in meno di 24 mesi. Se vogliamo dire in termini percentuali, una crescita del 7% rispetto all'anno scorso. Ora, sappiamo quanti siamo, vediamo anche il profilo e il comportamento dell'ascoltatore di podcast. Partiamo con il fatto che i podcast si ascoltano mediamente una volta a settimana, diciamo tra le tre e le quattro volte al mese, esattamente come succedeva l'anno scorso. E sul grafico di sinistra so che ci sono tanti numeri, ma focalizzatevi un attimo sulla prima barra, quella di chi ascolta ogni giorno quasi i podcast. È un 4%, è un numero che potrebbe sembrare piccolo, una nicchia, in realtà è un numero importantissimo perché sono quelli che noi chiamiamo heavy user, sono quelli che ascoltano podcast tutti i giorni. Quindi vediamo il profilo proprio in termini sociodemografici degli ascoltatori di podcast in generale e di questi heavy user. Qui abbiamo dei numeri indice, vuol dire che più siamo sopra il 100 più avremo degli ascoltatori concentrati in un certo segmento sociodemo, per cui se lo guardiamo per sesso tra maschi e femmine c'è una lievissima differenza, per cui abbiamo un pochino più di quote azzurre rispetto alle quote rose. La differenza più sensibile invece è legata all'età. Non ci stupisce ma abbiamo una conferma importante, il podcast è uno strumento giovane ascoltato dai giovani. Vedete come la concentrazione è decisamente più alta, significativamente più alta nella classe dei giovanissimi, 18-24 anni. C'è poi una decrescita, la concentrazione di ascoltatori decresce al crescere dell'età, ma vi faccio anche vedere che l'ultima classe, quella dei più adulti, dai 55 ai 64 anni, quest'anno si è allineata al totale del campione, è un pochino più bassa rispetto alle altre, ma rispetto all'anno scorso è cresciuta in maniera decisa. Per cui anche nella classe più adulta abbiamo osservato una crescita. Sono poi poche le differenze in termini di area geografica, ci sono ovviamente delle differenze legate a quanto usiamo internet. Più usiamo internet più ore, lo usiamo tutto il giorno, più siamo esposti ai podcast. Se guardiamo a destra abbiamo il riquadro con gli heavy user, quindi coloro che se vi ricordate sono un 4% ascoltano podcast tutti i giorni. Vi faccio vedere subito la differenza più forte, c'è sicuramente una concentrazione tra le fasce più giovani, ma in questo caso non siamo con il picco tra i 18 e i 24, ma nella classe successiva, dai 25 ai 34. Quindi ci portiamo a casa che tra i più giovani c'è più ascolto, ma sono i 25 ai 34 anni essere ancora di più uno zoccolo duro a ascoltare podcast tutti i giorni. Federico vi stava raccontando che i podcast si ascoltano prevalentemente tra le mura domestiche, lo vedete, lo fanno 8 su 10 praticamente, quest'anno grazie alle limitazioni dovute alla pandemia che sono venute meno è cresciuto l'ascolto in mobilità. Vedete che in macchina ha un 31%, vuol dire per farla facile che uno su tre ascolta in macchina. La freccettina verde ci dice che il dato è significativamente più elevato di quello che succedeva l'anno scorso. La durata media di una sessione arriva a 23 minuti, abbiamo guadagnato un minuto rispetto all'anno scorso, è una media chiaramente, però se partiamo dall'idea che aumentano da una parte gli ascoltatori e dall'altra aumenta la durata di una sessione, per cui ci conferma quanto sia buono lo stato di salute dei podcast. Ma come si scelgono i podcast? In base a che cosa? I social media hanno un ruolo importantissimo, sono in grado di guidare la scelta di una persona su due. A seguire abbiamo due mondi molto distanti, se vogliamo agli antipodi, internet tolti i social media, quindi l'online e il passaparola, quindi chiamiamolo word of mouth offline. Entrambi coinvolgono una persona su tre, quindi social media e poi internet e il caro vecchio passaparola. Invece se guardiamo alle caratteristiche dell'audio, vediamo che conta prevalentemente la tematica, influenza la scelta per otto persone su dieci e poi ci sono narratore ed autore, con il narratore che coinvolge un pochino più di persone, quindi ha un peso un po' più elevato nel processo decisionale. Vedete siamo nell'ordine di grandezza delle cinque persone su dieci, per l'autore un po' meno andiamo verso le quattro su dieci. Se vogliamo essere più alti vediamo perché si ascoltano podcast, quali sono le motivazioni, i driver che ci portano all'ascolto. Sono fondamentalmente gli stessi che abbiamo visto l'anno scorso, per informarmi 38%, per scoprire nuovi contenuti 32%, per divertirmi 28%. Quindi abbiamo una funzione di approfondimento, anche educational se vogliamo, dall'altra parte è una funzione di intrattenimento. Se guardate a destra abbiamo invece quella che potremmo dire la dark side of the moon, cioè le barriere che portano i non ascoltatori appunto a non ascoltare podcast. Al di là di una prima e fatemi dire fisiologica barriera, preferisco ascoltare in altre modalità, vi faccio notare il dato che secondo me è più importante e anche molto positivo, il fatto che chi dice non conosco questo servizio è un 30%, è decisamente decresciuto, abbiamo eroso quasi 10 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Per cui è stata fatta quella che noi chiamiamo in termini tecnici awareness della categoria, i podcast si sono fatti sempre più conoscere e quindi abbiamo limato questa barriera appunto arrivando meglio e più in profondità sugli ascoltatori. Il fatto che tra i contenuti preferiti troviamo news e attualità fa assolutamente il paio con quello che abbiamo visto nella slide precedente, quindi quel driver del ascolto podcast per informarmi. E vedete come una persona su due ha proprio una preferenza per i podcast che parlano di news e attualità, è un dato in crescita rispetto all'anno scorso. A seguire programmi di approfondimento e di intrattenimento esattamente legati ai driver che abbiamo visto in precedenza. Sulle lingue di ascolto vado molto veloce perché abbiamo una stragrandissima maggioranza di persone, il 99% che ascolta in italiano, non è indifferente, uno su quattro ascolta in inglese, mentre sono come dire più piccoli i contributi delle altre lingue, vedete francese e spagnolo 5% e via via tutte le altre. Qui abbiamo invece due domande che abbiamo inserito proprio nell'edizione di quest'anno. Una a sinistra, chiamiamola la fidelizzazione dei podcast, dall'altra parte invece il livello di attenzione. Partiamo dalla prima, abbiamo chiesto ti è capitato di abbandonare dei podcast che avevi cominciato ad ascoltare? In realtà il tasso di abbandono è molto basso, vedete c'è un 22% di persone, quindi uno su cinque per farla semplice, che non ha mai abbandonato un podcast. Se inizia ad ascoltarlo lo porta fino alla fine. E poi un 46%, percentuale elevata sì, ma che ha abbandonato giusto una o due volte, se devo pensare a tutte le volte che ho abbandonato un film, una serie o anche un libro, sicuramente decisamente più di una o due volte. Per cui in realtà il tasso di abbandono è decisamente minimo, anche in base al fatto che ho scelto bene con le variabili che abbiamo visto precedentemente. A destra invece il livello di attenzione. Abbiamo chiesto se l'attenzione che viene dedicata all'ascolto di un podcast è pari, inferiore o superiore, per esempio, a quando si legge un libro. Beh, fondamentalmente l'attenzione è simile, vedete, 55%, vero che c'è chi dice 3 su 10 che dicono che è un'attenzione minore, ma dall'altra parte abbiamo 2 su 10 che dicono che è maggiore. Per cui fatemi dire, l'attenzione che si dedica all'ascolto di un podcast è assolutamente analoga a quella che si dedica alla lettura di un libro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il podcast non è qualcosa che la dico male, ma per capirci che metto su e intanto faccio altro. C'è sicuramente una funzione di intrattenimento, ma un attrattenimento che richiede la mia attenzione. E infatti possiamo vedere che i podcast sono un modo per intrattenersi mentre si fanno altre cose, ma soprattutto sono decodificati come uno strumento utile, valido per gli studenti, per approfondire tematiche di studio. E poi c'è una funzione che ho chiamato di assistente magico, nel senso che i podcast sono un antidoto contro la noia, contro la solitudine e un po' meno contro l'insonnia, forse proprio per il fatto che ci devo dedicare attenzione all'ascolto e quindi troviamo l'insonnia in fondo a questa graduatoria. Per finire ancora due informazioni. Abbiamo chiesto, focalizzandoci solo sui genitori, se hanno figli che ascoltano podcast oppure no. Chiaramente dipende dall'età dei figli, però detto questo, un genitore su due ha figli che ascoltano podcast. E la cosa che è più interessante ancora è come sono arrivati i podcast in famiglia. Se vi guardate a destra, la barra più lunga è quella di chi dice che sono i figli che hanno fatto conoscere i podcast ai genitori, sono i figli che hanno portato i podcast in famiglia, poi ci sono rimasti. Infine, l'ultima informazione che abbiamo raccolto è il rapporto tra podcast e audiolibri. Ci siamo chiesti se il rapporto sia un rapporto, chiamiamolo di cannibalizzazione, di due competitor che si affrontano, oppure invece è un rapporto sinergico. Tautologicamente la risposta è la seconda, lo vediamo benissimo da quel 55% degli ascoltatori che ascolta sia l'uno che l'altro mezzo. Per cui fondamentalmente sono due media che possono non solo coesistere, ma appunto aiutarsi a vicenda e fare sinergia. E con questo lascio la parola a Federico. Bene, grazie. Allora, non so, bisognerà mettere delle sedie, immagino, per chiamare i nostri relatori. Ve li ho introdotti prima, ma adesso ho un foglio diverso, quindi ok. Allora, Francesco Bono di Audible, Andrea Montanari, direttore Radio Rai 3, Rai Radio 3, Giorgio, prego, accomodi anche tu, Nils Necure, Veronica Scazzosi, Frame Festival della Comunicazione. Prego, accomodatevi, vediamo chi resta al sole, che è ovviamente il posto meno ambito. Io resto in piedi per ovvi motivi di distanziamento, anche perché già una volta sono caduto da un palco in un altro evento, quindi eviterei di fare altrettanto. Allora, iniziamo da un primo giro di commenti sui dati che abbiamo visto. Andrea, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri. Volentieri. Innanzitutto grazie per aver sfidato questa giornata meravigliosa, che però è un po' calda per essere qui a parlare di tutto questo, perché per noi che ci lavoriamo è davvero molto importante. Grazie ovviamente a chi ha fatto la ricerca, perché è di straordinario interesse. Commento. Io sarò telegrafico e provo a farmi detestare da Giorgio facendo una domanda e provando anche a confutare, ma in realtà non è una vera confutazione. Una parte, una parte del significato profondo della ricerca, che è siamo nell'ambito di un trend di crescita regolare. Cominciamo dalla domanda. La domanda è che cos'è un podcast? Un podcast è un podcast originale frutto del lavoro di autori, sceneggiatori, post-produzione, quella cosa che tutti noi, che molti di voi hanno ascoltato, che ha un effetto e crea una suggestione immersiva, ti cattura come un'ancora e non ti lascia. Certo, Rai Play Sound, che è la mia piattaforma, Audible e tante altre, lavorano molto su questo tipo di prodotto. Ma un podcast è anche il riascolto di un articolo sulla piattaforma di un quotidiano, è il riascolto di un programma di flusso radiofonico. Podcast è tantissime cose e probabilmente al maturare di questo segmento di mercato sarà necessario fare qualche piccola distinzione, perché il lavoro, l'impegno e il risultato, la qualità stessa del prodotto che viene fuori dalla prima tipologia, cioè quella del podcast originale, frutto del lavoro di un autore, spesso uno scrittore che ha avuto un'idea originale, un autore teatrale, uno che lavora le inchieste, con musiche originali, con tecniche di post-produzione, insomma, questa cosa è diversa dal riascolto dell'articolo di un giornale che una, legittimamente, per carità, legittimamente, una piattaforma, un portale di un quotidiano mi propone e mi dice riascolta l'editoriale o riascolta quest'articolo in podcast. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché, e qui arriva la confutazione che in realtà non è tale perché la ricerca è di straordinario interesse e di straordinaria validità, ma se io prendo nella segmentazione degli ascolti per frequenza, una volta al giorno, alcune volte alla settimana, una volta alla settimana, qualche volta al mese e poi più giù. Se prendo i primi quattro segmenti, una volta al giorno, qualche volta alla settimana, una volta alla settimana e qualche volta al mese, io ho un calo in termini percentuali. Non ti ridico le percentuali perché non ho questa memoria fotografica, ma è stabile il 4% dei levy user, è stabile il 10% di coloro i quali lo fanno, ascoltano qualche volta alla settimana, sono in calo i due segmenti successivi. Siccome questi quattro che potremmo definire di ascolto consapevole perché lo fanno più volte alla settimana, abbiamo detto da una volta alla settimana fino a levy, rappresentano un terzo ma rappresentano soprattutto dobbiamo immaginare l'ascolto consapevole perché chi torna sulla piattaforma, chi lo fa più volte, chi ha voglia, ha un motivo per farlo. La somma è in leggerissima flessione. Ovviamente tutto il resto invece è in crescita perché il dato centrale è quel 15 milioni, ricordo bene, 15 milioni e 4 di dato complessivo. allora quello che voglio dire collegando la domanda che ho fatto all'inizio che cos'è un podcast e quali sono le differenze tra i prodotti e la constatazione se è vero Giorgio se me lo confermi che diciamo la fascia più alta quella più consapevole è in leggerissima flessione mi porta a dire questo che siamo forse dentro una fase di crescita critica del mercato vale a dire una stagione pionieristica nella quale tutto è podcast e si ascolta la rinfusa qualunque cosa probabilmente ha raggiunto la sua massa o sta raggiungendo la sua massa critica e i fruitori consapevoli probabilmente vogliono scegliere vogliono prodotti di qualità vogliono prodotti frutto di un lavoro professionale importante di idee originali se possibile di suggestioni immersive fatte appunto lo dicevamo di musiche originali di tecniche di post produzione probabilmente parlo perché dal mio punto di vista quello è l'obiettivo come so essere anche di piattaforme come Audible però alcuni dati mi fanno capire che è lì che dobbiamo puntare che è lì che dobbiamo guardare perché l'ascoltatore il fruitore più consapevole del podcast potrebbe cominciare a darci qualche segnale vogliamo prodotti pensati per noi prodotti studiati per noi vogliamo prodotti di qualità spero di avere un secondo giro per poi poter dire che ne facciamo tanti noi si radio 3 e quindi tutto questo però ecco ci tenevo a dare questo segno che secondo me potrebbe essere reale essere il segno di una fase di crescita irregolare critica di assestamento probabilmente sicuramente c'è un secondo giro e tra l'altro quello che ha detto Andrea rimanda a un trend che in qualche modo abbiamo già vissuto qualche anno fa cioè quello dei video cioè nel senso che a un certo punto quando sono arrivate piattaforme come YouTube o dove giravano video anche a quel punto si è messo in discussione che cos'è un video era quello che fino a quel momento avevamo visto cioè la televisione o diventava qualcos'altro in realtà poi la definizione è ancora molto difficile da tirar fuori però l'elemento di qualità sicuramente è emerso cioè oggi se guardiamo la YouTube di oggi o guardiamo anche TikTok politici a parte la qualità di quello che vediamo è sicuramente più alta rispetto a quello che vedevamo dieci anni fa dove c'era il cane che faceva la capriola o altri video scemi mentre oggi vediamo delle produzioni e anche i grandi player vedi per esempio anche la Rai sulla parte dei podcast stanno entrando e stanno anche affermando dei livelli di qualità Giorgio a te per un commento dei scusami a te Francesco per scusami Francesco per un commento dei dati che abbiamo visto di Nilsenekiu io credo che sia molto interessante quello che diceva Andrea prima c'è una crescita della base che corrisponde a una crescita dell'awareness e questo è uno step importante per l'intera industria ogni anno possiamo dire oltre mezzo milione di persone entra nel mondo dei podcast e questo a livello di funnel è un fantastico intake c'è poi l'altro dato interessante che è quello sul calo delle persone che dicono non lo conoscevo di nuovo a dimostrare come sta entrando nelle abitudini di una fascia sempre più ampia della popolazione questo aumenta il pubblico potenziale dopodiché la punta dell'iceberg di questo pubblico sono d'accordissimo con Andrea ha bisogno di prodotto di qualità perché man mano che ascolti podcast laddove l'offerta è ormai gigantesca e c'è di tutto e di più dallo user generated di due minuti alla superproduzione con 60 attori estremamente professionale ecco in questo oceano di offerta il pubblico man mano sviluppa il proprio gusto i propri bisogni e chiede cose sempre più dettagliate con produzioni sempre più sviluppate e con argomenti che sempre più rispondano ai suoi bisogni per cui uno dei trend che secondo me vedremo nell'industria in futuro è anche l'aumento delle categorie dei generi categorie e sotto categorie sicuramente ad esempio uno dei generi che ha guidato la crescita del podcast in Italia è stato il true crime a partire dal famoso caso di successo di veleno è un genere che in questo momento è possiamo dire forse anche sovrasfruttato su alcuni casi famosi ci sono ormai anche tre o quattro podcast ci sono invece categorie che ancora non hanno un'offerta interessante anche se sono categorie che magari nel mondo dei libri dei film dei documentari hanno un pubblico di tutto rispetto quindi questo è uno dei grandi trend che secondo me vedremo alla luce della crescita della popolazione che ascolta podcast in Italia bene sì true crime poi effettivamente è stato anche abusato anche in altri campi dell'editoria dai libri in giù Veronica a te per chiudere questo primo giro di commenti dei numeri di Nils allora intanto mi trovo pienamente d'accordo con quanto illustrato precedentemente da Andrea e da Francesco il podcast ha conosciuto un boom straordinario appunto dal 2019 soprattutto come un genere ancora da costruire quindi questo dava un po' aperta la sperimentazione noi come festival della comunicazione infatti ci ha sempre colpito questo contenitore che poteva essere appunto oggetto di una sperimentazione di linguaggi questo viene un po' dal ritaggio anche del nostro padrino Umberto Reco che insomma ci ha lasciato questa voglia di creare nuove connessioni nuove sinergie e quindi sperimentare anche quelli che sono linguaggi generi per arrivare a dei pubblici diversi e quindi allargare la conoscenza ecco quindi e senza dubbio c'è anche un altro aspetto la questione di che cosa si intenda per podcast di fronte ad una varietà anche di interpretazioni diverse e tutto ciò che comunque arriva anche come autentico che sembra quasi improvvisato in realtà molto spesso è frutto di un lavoro di squadra di un team che comprende comunque professionalità molto alte da quindi tecnici del suono sound designer editori scrittori autori e quindi anche voci e quindi il podcast ha permesso anche di creare queste sinergie tra professionalità diverse per offrire contenuti ed esperienze nuove quindi questo intanto era per condividere comunque questo trend e questa questa riflessione ma un altro dato che secondo me è molto importante che è emerso nella nella ricerca è soprattutto il i driver che hanno condotto poi che conducono le persone soprattutto i giovani ad approcciarsi ai podcast e ad ascoltare i podcast cioè quello dell'approfondimento dell'informazione anche dello studio e l'educazione ancora prima del dato dell'intrattenimento che forse rimaneva nella slide che abbiamo visto anche in secondo piano e anche e questo dato andrebbe anche combinato con la durata del podcast si parlava della durata media di 23 minuti come durata preferita quindi questo vuol dire che siamo di fronte ad una situazione in cui le persone hanno dedicano attenzione a dei contenuti di valore di una certa complessità e quindi non abbiamo più quel fenomeno che temevamo del mordi e fuggi con quindi soprattutto nei confronti dei giovani fino a poco tempo fa il dibattito verso il punto che riguardava questo studio legato a come apprendono i giovani e come i giovani tendano a frammentare le informazioni e a dedicare poca attenzione a quello che ascoltano invece questa ricerca mette in luce proprio come contenuti di qualità possano trattenere proprio il pubblico anche dei più giovani e quindi offrire loro dei contenuti di valore che loro stessi cercano e poi trasmettono anche alle nuove generazioni quindi come nuovo modo su questo ci sono diversi indicatori non solamente dal punto di vista dei podcast per esempio penso anche a Twitch il fenomeno lì torniamo sui video cioè sul fatto che i contenuti snack sono sempre i contenuti preferiti sui media digitali però si stanno affermando anche contenuti diciamo che non sono più solamente di breve durata penso ai podcast io su questo non sono d'accordissimo sull'idea che poi bisogna si fa solamente quello cioè quando si ascolta uno dei vantaggi del podcast è che si può ascoltare il podcast e fare altro si può andare a correre si può stare in automobile si può lavorare insomma la contemporaneità dell'utilizzo di questo strumento qui vedo che Andrea scuote la testa ma insomma puoi ovviamente contraddirmi tanto torno da te adesso per chiederti innanzitutto perché mi vuoi contraddire e poi perché e poi perché che cosa state facendo voi il RAI dal punto di vista dei podcast e quali sono poi le differenze tu sei se non ricordo male ho letto un po' la tua bio sei entrato il RAI con la radio poi vabbè sei stato anche direttore di TG1 e quindi hai lavorato anche in altre parti dell'azienda direttore del centro studi ma qual è la differenza principale tra fare radio e fare podcast la domanda è molto molto interessante e no non ti volevo contraddire assolutamente anche perché non voglio passare per bastia al contrario che già ho provato a fare una paradossale confutazione di almeno un segnale della ricerca no io sono d'accordo con te si può fare anche altro quando si ascolta un podcast evidentemente tra l'altro qui scontiamo l'ambiguità di cui parlavamo prima quale podcast se stai ascoltando un true crime che ti attira perché vuoi sapere come va avanti c'è un plot è chiaro che per lo più ascolti quello poi tu hai detto ti cito credo correttamente puoi andare sull'autobus puoi fare jogging sì quel tipo di attività puoi fare perché l'ascolto l'attenzione sono ancora connesse attività di altro genere per capirci adesso parlo contro quello che ero io un tempo il direttore del TG1 la televisione ti consente di fare attività di molto diverse perché l'ascolti con un angolo del cervello molto remoto delle volte a meno che non stai guardando il programma la radio e qui vengo anche alla domanda che mi fai il rapporto radio e podcast l'audio non è la radio come il podcast non sono facilmente gestibili insieme a qualcos'altro a meno che non sia un flusso di intrattenimento la musica quella roba lì poi musica di un certo tipo noi facciamo musica classica e abbiamo dai nostri ascoltatori che sono dei melomani che non sono folle oceani che d'accordo ma abbiamo cioè dei risconti che tu non immagini ci fanno le pulci sull'intonazione sul diesis quindi l'ascolto dell'audio è un ascolto esigente che ti mobilita quindi sì puoi fare delle altre cose ma insomma in modica quantità vabbè ma non è questo il centro della questione io penso che sentivamo formazione e informazione sono due dei driver possibili dopo diciamo per uscire da questa sorta se tale è di crisi di crescita che ci dovrà portare si diceva ad una tipizzazione dei generi quella che poi troviamo sono state ricordate le piattaforme video ma se io apro Netflix piuttosto che un altro OTT trovo una tipizzazione delle categorie estremamente precisa immagino che prima o poi arriveremo da quelle parti tu mi inviti a dire cosa facciamo e il rapporto con la radio è chiaro che io sono aiutato dal fatto di essere anche il direttore di un canale radiofonico facciamo un sacco di programmi che essi stessi sono degli interessanti ascolti differiti e quindi sulla piattaforma diventano podcast non voglio farla lunga non ti voglio portare via troppo tempo ma insomma noi ci siamo mossi sulla falsa riga di quello che tu hai chiamato il true crime rispolverando anche dei cold case come quello di Graziella De Palo e Italo Toni due italiani che scomparvero negli anni 80 in Libano ai tempi diciamo in cui il Libano era un crocevia di interessi inconfessabili era in vigore la cosiddetta dottrina Moro molti di quelli che sono qui presenti non erano ancora neanche nati ma insomma la dottrina Moro consisteva nel consentire ai terroristi palestinesi libero accesso in Italia e forse anche libero traffico di armi in cambio del fatto che l'Italia fosse tenuta salva dagli attentati dagli attentati dei terroristi palestinesi ecco all'ombra di tutto questo si svolge un intrigo internazionale incredibile che portò alla morte di questi due italiani una ragazza giovanissima di 24 anni che faceva la giornalista per Paese a Sera e un altro più maturo un inviato molto valido Italo Tony Loredana Lipperini ha fatto un podcast straordinario su questo tra l'altro vi dico che una delle cose che noi stiamo provando a fare non siamo gli unici lo ha fatto con grande successo a Roma Nicola il nostro il nostro il nostro ecco mi viene il cognome Nicola La Gioia ha fatto un libro che ha vinto premi un libro importante La città dei vivi molti di voi l'avranno letto ci ha fatto un podcast straordinario che è stato anche rappresentato live al teatro India a Roma con un grandissimo successo col tentativo di creare l'atmosfera immersiva del podcast stiamo facendo lo stesso anche noi abbiamo portato il podcast sull'Ucraina davvero mi chiudo perché mi rendo conto che sto parlando troppo abbiamo fatto dei podcast sull'Ucraina con Dario Fabri che avete visto è diventato poi un personaggio di grande richiamo televisivo ha cominciato con noi lo abbiamo portato live in diversi festival giornalistici c'è stato un enorme lasciatemelo dire successo un grande successo lo stesso faremo con appunto Missis questo podcast di cui vi parlavo su Graziella De Palo e Italo Toni ne faremo molti altri parleremo di Fausto e Iaio altre vittime di quella stagione a Milano due Leon Cavallini che vennero uccisi probabilmente dalla mano congiunta del terrorismo nero e della mafia ci occuperemo di Cammini ci occuperemo di Sofia Loren ci occuperemo di tantissime cose adesso esce un podcast su Sofia Loren in occasione del suo compleanno quello che cerchiamo di fare però è tenerci lontani dalla mera riedizione di prodotti già editati che siano la lettura di un editoriale o il semplice confezionamento o la semplice riproposizione di un programma radiofonico nella nostra convinzione il podcast è lavoro duro lavoro importante di autori di musicisti di editor è stato detto di tecnici di post produzione una cosa però adesso che dicevi non vogliamo fare il salto per cui le cose che facciamo per la radio poi le portiamo in podcast anche se poi quello si può fare però non sono quelli prodotti su cui puntate ma si può fare il contrario cioè si può secondo te invece portare un podcast per esempio io a Trieste ho sentito quello di Fabri a un altro festival che non cito per non fare concorrenza a quello di Camogli ma c'è c'è la possibilità di portare quei prodotti lì sulla radio secondo te può avere un senso prima di risponderti visto che commetti l'errore gravissimo di darmi altri cinque secondi lasciami dire che qui c'è Luca De Biase che ha fatto uno dei nostri podcast migliori si chiama l'altra metà del verso come capite tutti è dedicato all'universo del metaverso e particolarmente al trattamento dei dati all'importanza dei dati ai pericoli che corriamo sui dati e all'intelligenza artificiale chiudo la parentesi pubblicità certo che è possibile certo che è possibile adesso non vorrei avventurarmi su un terreno scabroso secondo me alcune compagnie che producono con notevoli investimenti podcast sperano proprio che i loro podcast divengano prodotto altro nella fattispecie serie televisive in modo da remunerare il prodotto perché poi un giorno faremo un ragionamento sul modello di business che secondo me può essere anche interessante quindi in astratto la risposta a quello che stia dicendo c'è già se diventa una serie tv può diventare anche un prodotto radiofonico c'è assolutamente osmosi da questo punto di vista questo sicuramente te lo do per certo perché insomma chiacchierando un po' con le varie le varie piattaforme si scopre poi che uno dei filoni di ricavi che si aspettano le piattaforme è proprio quello di lavorare su quelli che vengono detti i pi quindi le proprietà intellettuali e trasformare quegli stessi prodotti un po' quello che si fa con i libri cioè trasformare quei prodotti editoriali in altro magari di più costoso e di maggior soddisfazione di ricavi Francesco torno da te tornando in parte alla ricerca di Nielsen e cioè tu adesso prima ci hai fatto un commento di quei dati ma calandola sulla realtà di Audible che strategie vi suggeriscono detto che chiaramente non sono gli unici indicatori però ecco verso quale direzione volete muovervi la ricerca di Nielsen sui podcast fa il paio con quella sugli audiolibri che abbiamo pubblicato in occasione del salone del libro e entrambi i medium mostrano una crescita notevole anno su anno per cui la nostra strategia è quella di andare a parlare agli ascoltatori di audio entertainment quindi di rompere diciamo le barriere tra audiolibro podcast serie audio multivoice e andare a offrire contenuti citavi prima le IP o dei contenuti con delle IP che hanno storie declinate su diversi canali oppure con spin off prequel sequel a partire da un libro con dei podcast l'abbiamo fatto ad esempio con Alberto Angela con il suo libro su Cleopatra oppure costruire un mondo di audio entertainment intorno a un singolo autore ad esempio con Roberto Saviano dove abbiamo accanto ai suoi libri in offerta all'interno del catalogo Audible anche i podcast creati creati da lui quindi l'obiettivo è quello di creare un mondo di ascolto a 360 gradi dove l'utente possa decidere che tipo di formato ascoltare a seconda del tipo di intrattenimento e di livello di approfondimento che vuole avere poi per quanto riguarda i generi continueremo anche noi sicuramente a lavorare tanto sul tanto abusato true crime abbiamo a breve in uscita un podcast sul caso Parmalat ne avremo uno sul caso Cercello Rega la grande scommessa per i prossimi mesi e il prossimo anno sono le serie multi voice quindi delle serie con tantissimi attori con una storia con un sound design molto forte che creano un effetto estremamente immersivo che vengono da degli IP importanti lanceremo tra qualche mese lo possiamo brevemente anticipare Diabolic c'è qua Sandra Furlan che ha lavorato questo che ha dato il via diciamo a questo progetto e sarà anche questo un lavoro multicanale perché assieme alla serie multi voice avremo anche degli audiolibri legati a Diabolic e nel corso del 2023 lanceremo delle importantissime IP provenienti dagli Stati Uniti che avranno il loro primo sviluppo audio in italiano quindi accanto al podcast più classico diciamo di non fiction di true crime con una narrazione portante delle interviste una fetta sempre più importante sarà quella della fiction perché è un campo che è a strettissimo contatto con quello della fiction dei libri che ovviamente rimane un elemento di core business per Audible Royal Family? Abbiamo già diversi libri sul mondo della Royal Family a catalogo non abbiamo in questo momento dei prodotti originali in pianificazione Va bene Veronica Rubo il microfono per dire che Radio 3 non farà Royal Family ma abbiamo la sovrana elettrice di Alan Bennett in ad alta voce che è la nostra serie degli audiolibri Veronica l'abbiamo detto all'inizio l'hai raccontato anche tu cioè il fatto che il festival della comunicazione Frame ha puntato sui podcast già da qualche anno abbiamo visto che alcuni insomma soprattutto i generi su cui voi lavorate di più da Barbero a Fubini sono comunque argomenti che rientrano nelle categorie di maggior successo dei podcast ci spieghi questo innamoramento per i podcast e quali sono le cose che vorrete fare da qui in avanti sì allora intanto riprendo una parola molto bella citata da Andrea che è Osmosi e anche nel quadro illustrato da Francesco è proprio quello che succede rompere le barriere tra i generi ed è quello che noi abbiamo sempre fatto col festival della comunicazione è un po' nel nostro DNA e tant'è vero che siamo qui proprio oggi a parlare di questo podcast di mondo podcast all'interno appunto di una di una fascia che proseguirà nei prossimi giorni e che raccoglie tutti i maggiori produttori autori podcast in uscita insomma e quindi parlando di podcast e presentando nuovi podcast quindi questa questa sinergia tra esperienza dal vivo ed esperienza poi immersiva di contenuti podcast originali quindi è un tratto di sentire un tratto molto forte del resto appunto hai citato giustamente Alessandro Barbero e uno dei primi podcast proprio prodotti con Audible è stato proprio le grandi battaglie della storia e dai dati Nielsen ora non emergevano in queste slide però nel dossier approfondito c'erano e queste le grandi battaglie della storia sono il podcast più seguito di sempre e tra i podcast appunto più seguiti di quest'anno quindi questo ci fa molto piacere siamo molto orgogliosi di aver insomma iniziato una lunga serie poi di produzioni sempre su questo spirito della contaminazione anche tra discipline tra personaggi quindi secondo a vari target e vari gusti e di vari formati quindi da Lorenzo Baglioni quindi con delle rivoluzioni culturali molto spumeggianti molto scoppiettanti fino appunto al true crime con un podcast che è appena uscito e che presenteremo per la prima volta qui a Camogli che è con Miguel Gotor cadaveri eccellenti appunto su grandi delitti che sono hanno in qualche modo toccato la storia d'Italia e quindi dal delitto dalla chiesa quindi Giorgio Ambrosoli Walter Tobagi quindi grandi personaggi che verranno vengono poi raccontati in modo molto immersivo attraverso quindi una storia che parla sia dei fatti che delle delle persone che hanno vissuto quel periodo e che hanno ricostruito quelle cause e poi conseguenze che insomma descrivono il mondo in cui viviamo e sono tutte chiavi di lettura importanti per leggere il nostro presente quindi e su questa direzione insomma ci stiamo muovendo anche con altri prodotti molti con audible e poi Giorgio chiudiamo chiudiamo con te io sempre non possono fare domande sì magari una se abbiamo tempo la facciamo guardo il capo che a volte mi dice se si può fare o no allora ultima considerazione ripartendo dai dati che ci hai presentato all'inizio uno se 15,4 milioni sono tanti o pochi allora è un numero importante sì assolutamente è un quarto della popolazione in generale se lo raffrontiamo alla popolazione adulta che è quella che noi abbiamo intervistato ovviamente la percentuale cresce per cui assolutamente è un numero importante e poi un'altra un'altra cosa immaginando che ci sarà una edizione 2023 dello studio quali sono le cose che secondo te sarà più interessante indagare alla luce dei trend degli ultimi tempi e anche della ricerca che avete fatto secondo me ci sono due cose importanti uno sono proprio le occasioni di consumo di ascolto che fa il paio con quanto abbiamo detto finora quindi in certi momenti voglio ascoltare in macchina per esempio qualche cosa di più leggero oppure qualcosa di più approfondito e fa il paio ovviamente con quello che dicevamo in termini di qualità del podcast e di originalità del podcast l'altro un tema che secondo me sarà di attualità magari non nel 2023 ma negli anni successivi è quello del supporto allo studio quindi il podcast abbiamo visto è uno strumento che parla ai giovani e io immagino che diventi uno strumento che non sostituirà il libro scolastico per amore di Dio ma che possa invece supportarlo affiancarlo e quindi capire anche e soprattutto inizialmente dalla parte dei genitori che apertura c'è su questo bene forse in classe magari mentre si fanno i compiti allora se c'è qualche domanda tutto chiaro o state ascoltando dei podcast ok va bene allora grazie a voi che ci avete ascoltato grazie ai nostri ospiti che ci hanno spiegato com'è la situazione dei podcast in Italia oggi e buon proseguimento con il festival grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti